ed eccoci qui con il prossimo ospite che è roberto tarzia ciao roberto a daniele tutto bene tutto bene tutto bene tu sei una garanzia qui al vp ok dei quarta edizione quarta partecipazione sempre presente sempre qui finché ti fidi io vengo ti ringrazio veramente per aver accettato anche quest'anno ormai insomma ci conosciamo da un po collaboriamo da un po insomma ti considero quasi un amico dai ma sì ci mancherebbe sono sempre in mezzo alle scatole sono spero di portare qualche contenuto interessante o che comunque possa dare qualche spunto qualche spunto alle persone che ci seguono poi alla fine penso sia poi lo scopo della di queste due giornate di formazione di chiacchiere esatto esatto roberto ti lascio la parola presentati per chi non ti conosce e vediamo un po mettiamo in questo argomento del differenziare e diversificare argomento difficile rispetto agli anni scorsi quest'anno mi sono portato dentro un po di diapositive di solito vado a braccio però ho detto dai magari mettiamo due diapositive cambiamo un po gli argomenti facili li ho finiti abbiamo parlato di clienti abbiamo parlato di crescita quest'anno dove per forza sarà qualcosa di più challenging è sempre più complicato riuscire a portare qualcosa di carino allora diversificare differenziare sono due argomenti due argomenti secondo me fra i più complessi perché hanno un sacco di sfaccettature ti condivido magari lo schermo così abbiamo già le diapositive che ho preparato sono in pdf se me le fa prendere io le carico volentieri ok condividi te condivido io fai tu faccio tutto ok aggiungi eccoli qua scusa per un momento pensavo di aver di aver condiviso quello sbagliato invece non è la tua no no sono io sono io sono io ho ripreso la grafica allora diversificare si può fare quindi l'idea è portare in 20 minuti 30 minuti è impossibile poi spiegare la diversificazione la differenziazione io porto la mia esperienza quindi quello che ho fatto io nella vita chi sono brevissima presentazione co fondatore di atti power diciamo che normalmente mi conoscono per quello ho una serie di attività nel digital e nell'informatica quello che faccio normalmente oltre a un pochino di divulgazione principalmente su linkedin quello che faccio è cercare di risolvere problematiche problematiche riguardanti la digitalizzazione web normalmente quindi andare a creare dei sistemi di automation marketing di mail marketing e a grandi linee dei sistemi che convertono le persone quindi gli fanno fare una determinata azione e quindi gestisco clienti che hanno questa necessità questa diciamo nella nella mia agenzia web che si occupa di cliente mentre con atti power ci occupiamo di atti campaign siamo reseller di atti campagne in italia siamo fra i principali partner al mondo di atti campaign e quello che facciamo è portare la loro tecnologia aggiungere i nostri servizi dare supporto tecnico a chi utilizza questo servizio vuole avvicinarsi a questo servizio per introdurlo all'interno della sua della sua azienda faccio anche altre cose motivo per il quale sono qua oggi immagino e però diciamo queste sono le principali perché sono qui sono qui semplicemente perché ho diverse attività io nasco sistemista quindi ramo informatico sono partito da lì e poi ho differenziato e aumentato le mie attività cercando di riuscire ad avere più nicchie di mercato quindi partendo dall'informatica b2b e pubblica amministrazione poi aggiungendo a t power ed che segue quindi un servizio sas poi ho aggiunto una web agency che si occupa di servire clienti finali direttamente pian pianino poi attività di famiglia e nell'ambito della fotografia quindi ci occupiamo di sia fotografia aziendale sia la più classica fotografia matrimonialista ovviamente non vado più io a fare le foto però è una delle attività che seguiamo questa più familiare che mia diretta e queste sono alcune cose quindi sono qui sono qui per portare un mio punto di vista e per descrivere la mia gavetta in modo che ovviamente io non ho fatto tutto corretto ho fatto tutti gli ori possibili immaginabili chi seguirà questa diretta ne farà comunque tantissimi di errori però magari a qualcuno riesce a evitare o si accende qualche campanella di allarme dice però forse questa cosa qua la potrei fare in maniera diversa o potrei aspettare a farla quindi la mia idea oggi sono qui per portare degli spunti che possano aiutare le persone che vogliono affrontare questi argomenti all'interno delle loro attività che siano freelance o che siano già aziende di media grandi dimensioni di portare qualche spunto che secondo me potrebbe essere utile per riuscire a fare meno errori possibili diversificare sempre visto come un male si parla di estensioni di linea si parla di tante cose negative che la diversificazione può fare ce ne sono di negative ovviamente ce ne sono anche di positive altrimenti la gente non lo farebbe le persone non lo farebbero però la diversificazione è un argomento molto molto delicato perché si può fare in maniera corretta ma è molto facile cadere in facili problematiche che complicano la vita addirittura dentro la diversificazione del business una problematica e non una soluzione a magari un problema che stiamo cercando di risolvere lati positivi della diversificazione quindi adesso parliamo specificatamente di questo diversificare aiuta per esempio a differenziare le entrate differenziare le entrate è importante perché l'abbiamo visto anche soprattutto nell'ultimo periodo col covi abbiamo visto il settore del turismo completamente chiuso se tu avevi un agenzia turistica non avevi mai diversificato attività in nessuna maniera ho aperto altre tipologie di business ti sei trovato a piedi stessa cosa con le palestre se avevi solo una palestra e la palestra sono state chiuse due anni ovvio che adesso parliamo di un'esagerazione si sperano succederà più una cosa del genere però non si sa mai diciamo che prevenire è meglio che curare quindi riuscire a diversificare ci dà la possibilità di avere entrate diverse che ci danno una mano poi nello sviluppo del business certo se c'è un'agenzia turistica che ha differenziato nelle palestre sei sfigata ci vuole sempre un po di fattore c però aiutati che il dio ti aiuta quantomeno fare qualcosa sicuramente può essere utile un secondo lato positivo della diversificazione è la resilienza ai cambiamenti di mercato ancora per far capire bene io porto degli esempi forse un po estremi però secondo me ognuno nella sua nicchia può poi andare a trovare una una similitudine con qualcosa che è successo pubblica amministrazione azienda di informatica che magari la pubblica amministrazione fornisce servizi di antivirus quindi caspeschi era uno dei è uno dei più famosi pubblica amministrazione guerra e russia vietata la vietata l'utilizzo di caspeschi come soluzione da dare alla pubblica amministrazione se è solo caspeschi rischi di perdere i clienti certo sempre una generazione le aziende informatiche hanno sempre magari più prodotti da porre ci vuole un attimo trovare un altro prodotto non sempre però è possibile essere così veloci oggi o caspeschi domani o nod dopo domani o mcafi o qualsiasi altra cosa e quindi avere diversificare aumenta la resilienza ai cambiamenti di mercato quindi qualsiasi cosa succeda ho la possibilità di adattarmi velocemente un altro esempio comportato è quello di tumblr piattaforma social magari non super conosciuta in italia come facebook twitter o linkedin però una piattaforma molto utilizzata soprattutto da modelli e modelle un bel giorno i provider delle carte di credito dicono a tumblr ma sai che a me non piace molto essere essere affiancato a persone che fanno vedere nudità di conseguenza facciamo che se vuoi investi se vuoi se investi se vuoi che noi investitori andiamo avanti con te devi fare in modo che i tuoi contenuti siano più pudici siano più in linea con le nostre direttive tumblr dal giorgio al domani chiude totalmente la possibilità modelli e modelle di far vedere magari il seno piuttosto che altre parti del corpo e costi conseguenza chi aveva si era creato tutto un business su tumblr con cui usava tumblr per comunicare si ritrova azzoppato una cosa simile era successa anche su only fans insomma ogni 3 per 2 a qualcuno non va bene qualcosa quindi se il nostro principale asset è una piattaforma su cui non abbiamo controllo ovviamente ci ritroviamo magari con le gambe all'aria e quindi dobbiamo ricominciare da zero e diversificare sicuramente anche quando parliamo di comunicazione è utile e importante problematiche della diversificazione io l'ho divisa in due gruppi perché cosa diversifichiamo diversifichiamo il business o diversifichiamo i servizi sono due cose leggermente diverse dipende cosa stiamo qual è il nostro obiettivo cosa andiamo a fare dei problemi delle problematiche sono comuni se vogliamo diversificare quello che facciamo abbiamo bisogno di soldi perché ci vogliono soldi per diversificare di persone perché se diversifichiamo l'attività è probabile che abbiamo bisogno di competenze che magari oggi in azienda non abbiamo o comunque le persone che abbiamo magari sono già full con altro che stanno gestendo non possono gestire ancora altre cose e abbiamo bisogno di tempo perché diversificare vuol dire utilizzare il nostro tempo come imprenditori per curare un nuovo progetto e ce ne vuole veramente tanto poi quando parliamo di servizi dobbiamo fare tutta una parte di comunicazione dobbiamo far capire al nostro cliente che abbiamo una nuova tipologia di attività che offriamo all'interno del nostro business e questa parte comunicativa vi assicuro che è molto complessa abbiamo bisogno di segmentare quale quale parte dei nostri clienti potrebbe essere interessata a questo nostro nuovo servizio dobbiamo segmentare i nostri clienti in maniera da poter comunicare con quelli interessati alla nostra nuova attività in maniera veloce e dobbiamo essere abbastanza precisi perché se noi apriamo un'attività diciamo una branca della nostra attività che non c'entra magari proprio direttamente con la principale e la offriamo ai clienti a cui ero interessati solo con la solo alla principale rischiamo che questi clienti non ci trovino più coerenti col marchio oppure non ci trovino più eh interessanti e si disiscrivino dalle nostre comunicazioni o comunque perdano un po' di interesse nei nostri confronti quindi riuscire a segmentare le persone è importante allo stesso motivo per cui la parte di autorità noi abbiamo un'autorità nel confronto i nostri clienti arrivano da noi si spera perché siamo considerati bravi in quello che facciamo aggiungere servizi vuol dire essere considerati bravi anche su altri servizi che se non sono direttamente correlati in maniera abbastanza eh vicina può essere complesso io posso essere riconosciuto come un'agenzia molto brava a fare siti internet ma magari anche se la seo è attinente al sito internet con la seo a me non mi ci vedono non non ci azzecco perché non ho mai fatto comunicazione seo non ho mai dato prodotti seo non ho casi studio seo di conseguenza anche se gli argomenti sono similari siti internet e posizionamento dei siti internet per quanto simili sono comunque due cose diverse business ho messo una faccina perché di business c'è di tutto e di più cioè se vuoi diversificare il business le problematiche sono n mila miliardi dall'affitto se devi andare a prendere degli affitti dalla alla creazione di un business plan da zero all mvp quindi andare a creare un primo prodotto insomma le cose sono tantissime ne trovate di tutte di più se avete un business avete già affrontato almeno una parte eh di questa di questa casistica diversificazione io vi porto tre fasi tre fasi che secondo me ho estratto dalla mia esperienza sono effettivamente tre fasi per diversificare no sono accademiche no sono ripeto basate sulla mia esperienza non le trovate sui libri di scuola magari qualcosa potrebbe anche essere sbagliato per voi direttamente io ho cercato di portare la mia esperienza e fare in modo che fosse effettivamente eh il più possibile spalmabile su su tutti la prima fase è la stabilizzazione cioè stabilizza quello che hai adesso non puoi pensare di aprire un nuovo business per rattoppare le toppe o un nuovo business o un nuovo servizio per rattoppare le toppe del servizio principale che non sta funzionando tu devi avere un business già stabile se il tuo business iniziale non è stabile non puoi pensare di aprire nuovi business o nuovi servizi come faccio a definire un business stabile vuol dire che tu non devi tu imprenditore non devi essere coinvolto più di una di queste attività che ho che ho segnato qui la prima attività è la delega io so che c'è anche Pier Nicola Di Maria che sicuramente è super verticale in questi giorni su questo argomento non so se poi parlerà effettivamente di delega o altro non mi ricordo lo spicci che fa lui però se tutto passa da te quindi non riesci a delegare le cose non puoi pensare di aggiungere altri servizi già devi pensare a n mila cose se devi pensare a un servizio aggiuntivo che è una che è un impegno mica da ridere ovviamente molto complesso che tu riesca a portarlo avanti in maniera in maniera convincente perché già o a meno che non lasci andare tutto il tuo servizio principale per andare su un servizio secondario però il servizio principale rischi che vada a morire la vendita chi propone il tuo prodotto se lo proponi solo te e apri un nuovo servizio e questo servizio ti occupa al cento per cento nessuno più vende il tuo prodotto principale quindi oltre ad aver stabilizzato il tuo sistema di delega deve stabilizzato si spera il tuo sistema di vendita quindi deve esserci qualcuno o qualcosa che vende per te che sia un fan che sia una persona seconda della tua tipologia di business ma qualcosa deve deve esserci a parte in comunicazione non puoi smettere di comunicare perché ti stai dando a un altro servizio la comunicazione deve essere continuativa se la comunicazione la fai te devi essere consapevole del fatto che potresti avere un arretramento della possibilità di fare comunicazione quindi devi cercare di o delegare o automatizzare o migliorare i processi comunicativi sia sul vecchio brand servizio che utilizzi sia su quello nuovo infine l'innovazione ora io non mi aspetto che qua siano tutte aziende super innovative che chissà che cosa hanno inventato nella vita però oggettivamente se non inventate cose quantomeno dovete andare sugli standard minimi di mercato quindi a meno che non abbiate un settore che non si innova da 40 anni è molto probabile se fate parte soprattutto del più ok dei che abbiate dei settori dei business digitali e business digitali evolvono continuamente e quindi qualcuno che prende diciamo la palla al bazzo e mantiene il proprio servizio però la propria azienda innovativa in senso che è attuale coi tempi che corrono in questo periodo fraccia di automazioni metaverso blockchain stiamo vedendo di tutte e di più poi positive e negative io qua non entro nel merito qualcuno che si occupa dell'innovazione in azienda non potete lasciarlo stare per il semplice motivo che voi state state aprendo un nuovo servizio o una nuova attività seconda secondo punto secondo me importante è la misurazione dovete misurare ovvero risorse umane quante persone avete che lavorano con voi o per voi ne avete abbastanza la tipologia di persone si sposano con un nuovo servizio business che volete aprire perché se non avete abbastanza persone o le competenze all'interno dell'azienda dovete prenderlo in considerazione nel momento in cui volete aprire nuove attività qualsiasi siano quindi una prima cosa da misurare internamente per capire se potete andare avanti nel diversificare la vostra attività e capire se le persone che avete avuto a bordo sono sufficienti e hanno le competenze da voi richieste la seconda cosa sono ricordi le risorse economiche vi bastano i soldi per poter aprire un nuovo servizio perché aprire un nuovo servizio non vuol dire andare su fiver spendere cinque dollari avere il nuovo loghettino figo del servizio e siamo a posto così vuol dire avere un piano marketing vuol dire avere dell'advertising da dover fare su quali piattaforme su linkedin linkedin è molto costosa come piattaforma di advertising su facebook su instagram i soldi per il tempo che ci vorrà ovviamente per andare a sviluppare questo nuovo business e di conseguenza il tempo sono soldi soldi di persone che pagate perché vi aiutino a svilupparlo o soldi perché dovete comunque fare investimenti di qualsiasi tipologia essi siano quindi di soldi avete bisogno se voi volete diversificare perché non avete abbastanza soldi per mantenervi lasciate è la strada sbagliata è come fare marketing perché mi sono accorto che non sto vendendo niente dovevi pensarci prima se arrivi dopo rischi soltanto di fare un grosso un grosso danno il tempo può dei tuoi collaboratori se siete già tutti strozzati che su otto ore lavorate tutti i nove sarà difficile che aggiungiate un nuovo servizio ritorniamo al discorso iniziale delle risorse non hai risorse sufficienti quindi devi acquisire nuove risorse che necessita di tempo necessita di soldi e quindi come vedete poi alla fine tutto correlato la seconda cosa è danno inteso come sostantivo non come verbo quanto ti puoi far male potrebbe andare male questo servizio cioè se questo servizio questo business falliscono tu chiudi baracca burattini e allora forse non è il massimo dovresti puntare su dei servizi anche perché dovrai fare diversi test magari non andrà bene alla prima volta almeno a me non è andata bene alla prima poi magari voi siete più bravi e però nel dubbio io farei in modo che non rischiare il fallimento nel caso nel caso qualcosa andasse male alla fine obiettivi molti si dimenticano di inserire dove voglio arrivare ok io apro un nuovo servizio ma perché mi serve questo nuovo servizio quali sono gli obiettivi che questo nuovo servizio deve apportare servizio business io adesso utilizzo solo il termine servizio sono divento matto e quindi prima di tutto che cosa voglio fare che cosa voglio ottenere e questa cosa deve essere misurabile se avete obiettivi non misurabili cioè voglio aumentare il numero di clienti non è un obiettivo è un'idea è un è una cosa astratta io voglio 50 nuovi clienti quello può essere considerato un obiettivo fate un po di letture su kpi poi questo è queste cose sono molto molto chiare il come quindi tracciamo la strada per arrivare al risultato finale definiamo le kpi che vogliamo che dobbiamo raggiungere per definire questo nuovo servizio vincente un servizio che comunque sta portando effettivamente miglioramento all'azienda e non è soltanto un peso e poi dati una scadenza quanto tempo ho a disposizione per lanciare questo servizio perché se non vi date un tempo quindi un range di tempo da rispettare rischiate che si dilunghi all'infinito per anni e anni perché c'è sempre qualcosa da sistemare extra tenete a mente una cosa molto importante questa slide mi ha cambiato la prospettiva quando l'ho visto la prima volta la trovati in varie tipologie se siete da soli o comunque diciamo la persona che siate voi o il dipendente se lavora solo su un'attività per forma invece in via ideale al 100 per cento se vuole differenziate su diverse attività tipo due attività non per forma 50 e 50 per forma 35 35 un totale del 70 in come efficacia globale della persona è inferiore rispetto ad avere solo servizi tenetelo presente cioè se voi dovete dividervi fra due cose non performerete mai e lavorate otto ore al giorno non farete mai quattro ore a quattro a parte che ne farete dieci e dieci probabilmente ma non riuscirete a performare come se faceste quattro ore uno quattro ore l'altro ok a meno che non aumentate le ore di lavoro perché quando aprite business servizi eccetera una parte del vostro della vostra capacità di produrre se ne va via in stress in problematiche in burocrazia in centomila cose e di conseguenza non riuscirete mai a performare al 100 per cento più aggiungete tasselli alla vostra attività più questa performance cara diversificazione l'abbiamo vista super veloce sulla differenziazione perché so che se no daniele mi spacca la testa c'è qua anche davanti un timer che so che mi arrivano i miei costituzionali se mi metti 21 va bene differenziare il tuo business principale ha un senso cosa vuol dire vuol dire il tuo business principale che stai differenziando è già ben collocato sul mercato cioè se è una web agency che fa siti internet come altre 300 mila web agency il tuo business con te ha un senso oggi fanno tutti quello che fai te forse prima di differenziare sistemerei quello che non va bene sulla tua attività una volta che l'attività performa allora pro e contro di differenziare la tua attività il pro di differenziarsi è che sanno perché sceglierti se sei differente dagli altri i tuoi clienti sanno perché stanno venendo da te se ti sei differenziato bene esci dalla mediocrità tutte le web agency adesso prendo quello come esempio tutte le web agency fanno siti internet ma tu ti distingui per un particolare che è interessante perché tu sei magari più tendente alla parte di conversione piuttosto che di siti vetrina e quindi rispetto alla mediocrità di tutti fanno la stessa cosa tu sei superiore da quel punto di vista ovviamente sei in linea con il cliente il cliente che viene da te è già allineato su determinati valori perché la tua la tua caratteristica differenziante è in linea con quello che sta cercando il cliente e non competi sul prezzo non vai la ferrari non compete con le automobili perché la ferrari è su un livello superiore superiore è una differenziazione il mcdonald's non compete con la trattoria da gianni perché è quella nicchia specifica che poi qua piaccia non piaccia non è quello l'importante l'importante è che essendo differente ti puoi distinguere dagli altri quindi puoi andare anche a competere sul prezzo nel caso di mcdonald's ovviamente sul prezzo magari sulla quantità più che sul prezzo in sé però ci siamo capiti ci sono anche dei contro però differenziarti se lo fai dopo ovvero hai già tutta la tua serie di clienti se generico e poi ti differenzi rischi di perdere una parte della clientela che se non si rivede più nel tuoi nuovi valori puoi avere concorrenza verticale di qualità cioè se tu entri nell'ambito auto da corsa e magari stai già andando a rompere le scatole ad aziende con un certo pedigree e di conseguenza differenziarsi può essere molto complesso e ovviamente il bacino di utenza diminuisce prezzi più alti e meno utenti che acquistano il tuo prodotto quindi è sempre un bilanciamento siamo alla fine e ho voluto portare qualche strumento che secondo me potrebbe essere utile più o meno a seconda di che cosa fate a seconda di cosa vi serve di come volete differenziarvi il primo strumento è gheru che attualmente è in lifetime e non ho nessuna partnership con loro è uno strumento che avrò da da sette anni ha anche cambiato veste più volte cosa fa fa una simulazione dei costi quindi voi inserite tutto il giro che fanno gli utenti ok vanno su facebook li converto opt in page tutto tutto il giro che devono fare il fan che devono fare gheru inserisce a seconda del budget che avete inserito nelle piattaforme di advertising i tassi di conversione che vi aspettate è un po tecnico dovete inserire un po di dati a seconda di quello che andate inserire gheru dice magari quanto vi costa il lead finale e questo secondo me potrebbe essere una cosa carina se dovete differenziarvi diversificare il vostro business se volete fare delle simulazioni di prezzo di prodotto per esempio ma è su un esempio poi molto utilizzabile è abbastanza simile a fanellitics da quel punto di vista a t campaign vabbè io gioco in casa utile per comunicare segmentare automatizzare testare quello che state facendo e con un account potete testare sia più business sia più servizi quindi potete segmentare all'interno dell'account la vostra clientela definire a seconda di vari parametri se potrebbe essere interessata al nuovo business aprire tutto un nuovo sistema di comunicazione direttamente sulla piattaforma secondo me potrebbe essere interessante cagpt secondo me è un ottimo strumento per avere magari delle idee degli spunti interessanti su come diversificare come differenziare ci vuole un po del vostro anche non potete ovviamente appoggiarvi solo a lui però se non ci avete pensato magari qualche domanda cagpt potreste farla o servizi simili e magari qualcosa di interessante salta fuori in ultimo un libro che secondo me può essere utile lasciate stare il titolo che ovviamente un po provocatorio prendi i soldi e scappa e però spiega bene la diversificazione del business e delle e dei servizi e vi dà secondo me qualche idea simpatica lo trovate su amazon la copertina questa qui l'ho preparato apposta secondo me è un libro interessante mi è piaciuto è fatto sotto forma di mini romanzo sono 200 pagine e rotte e intratto questo autore fatto anche altri libri molto interessanti mi pare che sia anche quello che ha fatto business automatico altro libro che mi era piaciuto molto e niente quindi se volete un libro che vi dà qualche idea 200 pagine ve lo divorate in un paio di giorni molto interessante a me è piaciuto ecco poi se non vi piace sapete quanto tempo avete perso ho messo il qne spero di essere giusto e se mi cercate qua vi ho lasciato qualche qualche riferimento la newsletter dove tratto di a grandi linee business imprenditoria e marketing ed è il posto in cui scrivo di più atti power del sito nostro tra l'altro abbiamo lanciato oggi la nuova versione del sito atti power ed anche se è un caso però stiamo ancora sistemando qualcosina rubetto tarza puntocom mio blog trovate dei miei articoli studio ff tarza trovate più o meno tutte le mie attività linkedin e dove scrivo e instagram ogni tanto a tempo perso ci metto qualche fotografia ma non è proprio il mio la mia casa madre a qualcuno interessa se mi seguite sono contento robin c'è spazio per una domanda a risposta un po veloce fabrizio da addirittura collegato a londuras ci chiede se è più facile diversificare da area servizi o area prodotti cioè se il tuo core business e servizi meglio diversificare la stessa area o passare all'altra è impossibile definire la cosa perché ovviamente l'area prodotti realizzare un prodotto ha se parliamo di prodotti fisici ha delle complessità magari in più rispetto ai servizi quindi ci può volere un po più di tempo per riuscire a diversificare sul prodotto però dipende dall'azienda dipende dalla nicchia dipende dai tuoi utenti che cosa ricercano che cosa già trattato che sono i tuoi competitor quindi dirti sì più facile diversificare sui servizi dipende ecco questo anche anche te daniele hai avuto esperienza su diversificazioni interne aziendali su tratti di servizi hai diversificato anche il business da poco sicuramente diversificare il business è più complesso il prodotto fisico è più complesso ma non è detto che diversificare il servizio sia la strada giusta dipende ne parlerò domani visto che mi sono riservato mezz'ora per un per un mio intervento a fine a fine mattinata proprio ti ringrazio tantissimo per aver partecipato anche quest'anno allupi ok day e per tutti gli spunti che ci hai dato sul tema di diversificazione magari rispondo qua nel nei commenti se qualcuno ha qualche domanda cerco di rispondere o sotto youtube ho visto bene c'è una domanda che mi sembra un po più specifica su active campaign quindi se vuoi rispondere nei commenti fantastico ok ok si volentieri volentieri so che sono nato un po giusto 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 però comunque rispondo a tutti anche se avete bisogno di iscrivermi in privato avete tutti i miei canali rispondo sempre a tutti grazie ancora roberto buona giornata grazie a te ciao ciao